Dopo quasi 50 giorni di assenza torna il calcio giocato in Serie D in modo completo. Domenica infatti si svolgerà il settimo turno del torneo nel Girone H. Sarà in terra campana la Fidelisania di Gigi Panarelli che affronta a domicilio la Versa reduce dai due quasi recuperi disputati nelle scorse due settimane. Quasi perché domenica scorso il match disputato sul neutro di Alberobello contro il Fasano è terminato al 34esimo minuto del primo tempo. C'è curiosità per come la squadra reagirà al ritorno in campo. Il fattore campo per la Versa è stato sempre come un fortino dove anche l'anno scorso loro vengono anche da una vittoria di un campionato quindi sappiamo che è un campo ostico. Poi in campagna le squadre campane sono sempre scaltre, furbe, sono delle compagini di tutto rispetto indipendentemente da quella che può essere la posizione in classifica che secondo me è bugiarda visto le gare che ho visto l'ultima soprattutto con il Nardo in casa e poi quella mezz'ora con il Fasano. È una squadra da avere molto rispetto. È chiaro che poi dove andiamo andiamo ce ne andiamo a giocare e vorremmo imprimere quello che è il nostro gioco. Sul fronte rosa resta in via di recupero Prinari che ha lavorato in questo mese e mezzo per smaltire un fastidioso infortunio muscolare mentre ci saranno sia Cerone che avvantaggiato, ultimi arrivati in casa Biancazzurra, modulo che dovrebbe ricalcare ancora quello delle prime uscite stagionali con un 3-4-2-1 e Cristaldi unica punta con alle sue spalle Russo e Cerone. Diversi però i dubbi che saranno sciolti solo nelle ultime ore prima del match. Io metto sempre la miglior formazione possibile e dobbiamo vedere anche quello che può essere anche una strategia tattica per poter mettere in campo da subito i giocatori. Ci potrebbe essere come magari ci sono anche chi è rimasto con noi che è congeniale a quello che poi è il sistema tattico della squadra. Nel frattempo questa mattina la squadra è stata sottoposta al ciclo di tamponi per verificare la presenza di positività al Covid-19 nella Rosa e nello staff Biancazzurro come da nuovo protocollo sanitario. Tutti i negativi tesserati Fidelis che partiranno regolarmente per la trasferta di Aversa. Gara quella in terra campana che non sarà al momento possibile vedere sui canali social della Fidelisandria così come consentito dalle linee guida della Lega Nazionale di Lettanti a causa della mancata concessione da parte della Real Agro Aversa dell'accredito alla nostra emittente Telesveva per la gara di domani. Una violazione delle norme da parte della società campana che non permetterà di far vedere gratuitamente la gara ai tifosi. Per questa scorrettezza sono già stati interessati gli organi preposti.